Progetto importante da un'idea di Teddy Reno, progetto per la ricerca della melodia italiana nei cinque continenti, di cosa si tratta in particolare? Abbiamo deciso, io l'ho fatto come ultimo atto della mia carriera settantennale, di andare a trovare, anche fatto da un compositore sudcoreano, non dico a caso, sudcoreano, senza parole, però dopo noi possiamo metterci sulle parole, ma ci deve essere una melodia portata poi ritmicamente in forma moderna, in maniera che piaccia anche ai giovani. Allora questa idea qui la stiamo realizzando, abbiamo avuto dei bei successi all'Expo Milano. Elisa Riccitelli per chiudere una giovane artista al fianco di un grande, un mostro sacro della musica italiana. Sì, allora per me è un onore, in quanto io comunque sono davvero giovane, ho vent'anni, e trovarmi al suo fianco è davvero un'emozione grandiosa, nonché ho fatto tantissime belle esperienze e spero di continuarne a fare altissime. E ne fai ancora adesso? Anche ultimamente? Sì, assolutamente sì. Tanti cari saluti e viva la canzone italiana, viva la brutto! Grazie.